Cristiano, per favore, per favore, aspetti da tutta la vita, per favore, per favore, Cristiano, aspetto da tutta la vita, questo momento posso abbracciarci. Grazie. Sì, sì, sì. Scusi. Scusi. Dio, perché c'è Raffaelella? Dì lì ciao. Dì lì, Raffaelella. Come ti chiama? Michela. Michela. Dì, che vai su là. Ciao.